La giama del tabacco, signore, signorine, bambini, militare metaprecnotico, denicotini, denicotini, non riesco a dire denicotinizzatevi, o l'ho detto. Eccolo della Cipria del Settecento che turbamento, quando il bel Gicisbeo alla Marchesa dava la presa, quella se la prendeva tra le due dita, proprio così, prima la chiutava e poi, e c'è, e c'è, gli occhi stralunava e poi, e c'è, 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 per c'è, c'è, per c'è, 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 c'è. il babbeo, la tabacchiera serviva per e tre, nel 1700, volte e sin tre. Secolo del romanzo, nello sto centro si vede il ganso, che è serio come un gonzo, da sette giorni cammina tonto, lui che si chiama Pippo, t'amavo troppo, sospira in me, peppa, tu l'amor, non sai cos'è, è colpa del tabacco sì, perché? E Pippo alla Pippa, che Pippa, ora Peppa, Peppa, non Pippa, la Pippa, di Pippo, le donne ancora non fumavano, ahimè, nel 1800, volte e sin tre. Secolo novecento, vieni a vedere che ciminiere, fuma la fortinaia, mentre saluta la bombinaia, persino il mio gigetto, che è un frugoleccio, grande così, quando va la scuola tu, tini, e sopra i mure scrive ogni ora, e vivi. E viva la Pippa, 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 sigaretta, Giorgio l'accende, e la fuma Giulietta, tutte le cicche le lasciano a me, e Dio le porta a mamma, oi lì, oi lì, oi lì.